...e per gli studenti che hanno ripreso... ...e per me che è parte dell'ufficio... ...stanto di Anteneo, proprio... ...questa è la brochure tecnica... ...in modo internazionale importante... ...in secondo ammettamento... ...i ricordi di importanza dopo le Olimpiadi... ...pergono parte da tutto il mondo... ...so studenti... ...questa e in tutte le altre città... ...con le loro rispettive... ...ideali e valori... ...che sono ideali e valori... ...a praticare ogni giorno... ...a proporre, per farlo diversitare al Comune... ...e di organizzare... ...pensa la nostra diversità... ...ma in particolare al mondo per il nostro... Applausi... Stefano... ...Espettate... ... ... ... E qui si vede la corsa, è uno stile. E qui si vede la corsa, è uno stile. E qui si vede la corsa, è uno stile.